E allora fatemi forte, forte, forte l'applauso perché i primi a sollicare le pedane di questo palcoscenico sono il gruppo di E.M. Craft! Ragazzi raccontateci pure chi siete! Ciao a tutti, noi siamo E.M. Craft, abbiamo lo stand lì in fondo con quel bel logo come questa maglietta, realizziamo armature, oggetti e scenografie totalmente a mano, artigianale, fatte in casa. Veniteci a trovare, ciao! E ringraziamo E.M. Craft con un applauso!